Sei una microimpresa e hai un progetto innovativo? Scopri i vantaggi di Innometro, il progetto che trasferisce la tecnologia all'impresa. Innometro, un percorso di accompagnamento individualizzato e gratuito. Un sostegno finanziario per sviluppare un progetto di innovazione dell'organizzazione, della produzione e del prodotto. Finanziamento a tasso zero con preammortamento di un anno e durata massima di 60 mesi. Contributo a fondo perduto del 50% fino a un massimo di 25.000 euro. Per accedere ai percorsi di accompagnamento della durata di 25 ore, contatta direttamente uno dei soggetti attuatori, gli incubatori dei due Atenei torinesi I3P, 2I3D, Soges SPA, Bioindustry Park e CNA Torino. La misura supporta le microimprese attive con una sede operativa nel territorio della città metropolitana di Torino e che abbiano partecipato al percorso di accompagnamento. Le microimprese ricevono l'incentivo secondo le regole de minimis. Sono ammissibili le seguenti voci di spesa, progettazione e prototipazione del prodotto, servizi per la sperimentazione di prodotti o processi innovativi, acquisto di licenze, brevetti, know-how, attività di ricerca e sviluppo, acquisto di software, applicazioni digitali, sistemi informativi. Le imprese che hanno concluso il percorso di accompagnamento possono accedere al bando per ottenere la misura di sostegno finanziario sul sito web di Finpiemonte. Info sul sito web della città metropolitana di Torino. Sezione Attività produttive. Innometro. Supporto e sostegno per la tua idea innovativa.